Ciao, qui Giacomo Freddi di Interle Business Cafè e creatore del software Funnel Semplice, software e servizi di formazione con cui aiutiamo le persone a vendere meglio e servire meglio il proprio mercato grazie al web. E in questo video ti voglio parlare di Marco Doria, un professionista del web con cui ho avuto il piacere di collaborare ultimamente e del quale ho avuto il piacere di vedere le campagne perché è proprio un mio cliente dentro Funnel Semplice. E sono qui a registrare questo video perché voglio parlarti della sua efficacia quando si tratta di insegnare ed aiutarti a trarre profitto nei social. Infatti abbiamo avuto alcuni progetti insieme, ho collaborato con lui e devo dire che è estremamente efficace e pratico soprattutto quando si tratta di generare profitti grazie ai social perché ti insegna con i suoi programmi di formazione e anche quando ti segue se andrai a fare dei servizi con lui ti insegna esattamente in modo pratico senza troppa teoria cosa che io odio personalmente e chi mi segue lo sa benissimo come utilizzare con un processo passo passo i social per vendere il tuo prodotto e portare un cliente che non sa magari nemmeno, non conosce nemmeno te oppure il tuo prodotto non sa che esiste la tua soluzione ad acquistare da te in modo naturale. Ma non solo, ti dico questo anche perché ho avuto il piacere anche di vedere quali sono i suoi progetti appunto dentro Funnel Semplice e lui oltre che insegnare queste cose le fa tutt'oggi nel mondo reale ogni singolo giorno perché vende qualsiasi tipo di prodotto o servizio in diverse nicchie. Questo è qualcosa che faccio anche io e per questo amo molti professionisti del web che non solo parlano, studiano e insegnano ma fanno esattamente queste cose sul campo reale. Quindi di nuovo se cerchi un metodo efficace per sfruttare i social non come fanno in tanti in modo mediocre ma con un processo pratico passo passo che ti porta a proporre i tuoi prodotti o servizi e trarne veramente profitto anche partendo da zero allora ti consiglio veramente di seguire i corsi oppure di fatti seguire da Marco Doria perché è uno dei migliori professionisti in Italia quando si tratta di generare veramente risultati grazie allo strumento più potente oggi che sono i social network. Ciao e un abbraccio da Ziacomo Freddi.